Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Oggi parliamo, beh, continuiamo il filone del cosa fare in questo contesto di coronavirus. Questo è un discorso, come dire, sanitario, quindi vi faremo un discorso, come dire, un po' tecnico, ma pratico. Cioè, il tema di oggi è come faccio a proteggere il mio ambiente e, diciamo, i contesti dove mi trovo a passare il tempo dal rischio di contagio. Considerando soprattutto quella che è la forma di contagio dovuta al contatto. Certo, delle mascherine abbiamo parlato perché abbiamo detto il virus si trasmette per via respiratoria. Se io metto la mascherina una parte del rischio lo abbatto. Ma il virus si deposita anche sulle cose. E oggi parliamo di questo aspetto. Allora, in realtà non abbiamo tantissimi dati possibili, ma abbiamo cercato di sintetizzare per voi uno studio di ricercatori americani che è stato pubblicato su una rivista molto nota e accreditata che ha provato a vedere quanto resiste il virus e quanto resiste la sua carica, cioè il suo potere infettante, diciamo così, su diverse superfici. E ne ha analizzate quattro. Una è la plastica, l'altra il cartone, l'acciaio inossidabile e il rame. Ci sono anche quegli studi sull'asfalto e quelle robe lì. Facciamo a meno, insomma, facciamo a meno. Anche perché non ci sono delle prove scientificamente. Non c'è molta evidenza, non c'è molta evidenza e poi è un po' al di fuori del nostro controllo. Mentre invece questi sono tipi di materiali con i quali abbiamo a che fare in casa, quindi è più utile. Esatto. Allora, abbiamo visto che tramite questi ricercatori che le due superfici in cui il virus sta meno, gli piacciono di meno, sono il rame e il cartone. Hanno visto che la capacità infettante di questo virus si dimezza entro quanto? Allora, controllo per essere certa, in meno di due ore sul rame, entro cinque ore sul cartone. Ok? Mentre invece rimane un pochino di più su quello che è tutto l'acciaio inossidabile e la plastica. Per questo, per dimezzare la capacità infettante sull'acciaio inossidabile, sono necessarie almeno sei ore, mentre sono necessarie più di sette ore sulla plastica. Quindi direi che il cartone ci va abbastanza bene, ma per la plastica, perché abbiamo un sacco di superfici di plastica con cui possiamo entrare in contatto, questo è abbastanza lungo, cioè sette ore almeno perché si dimezzi la carica infettante del nostro virus e perché si azzeri questa addirittura 72 ore per la plastica e 48 ore per quanto riguarda l'acciaio inossidabile. All'atto pratico non possiamo lasciare lì il cartone con dentro la pizza per cinque ore, perché se no la pizza è immangiabile e d'altra parte non possiamo foderare di rame le nostre case. Ma il messaggio che ne viene fuori è il virus campa, è sbagliato, ok? Perché di suo il virus ha bisogno di cellule per vivere, ma diciamo è ancora lì, ha la sua capacità di infettare dopo un tot di ore, più o meno, a seconda del tipo di superficie, ma insomma se io tocco in giro dove c'è stato il virus qualche ora prima corro dei rischi. Quindi sostanzialmente quello che si propone di fare per evitare di impazzire, di dire il mobile di legno, il quaderno di carta, eccetera, quello che si propone di fare è anzitutto chiarire nelle vostre procedure, e mentalmente un dentro casa da un fuori casa, ok? La casa per definizione ci state solo voi, è pulita, non ci girano i virus nella vostra casa, non entra dalla porta, ok? Come può il virus entrare dalla porta? Portandocelo. Certo. Quindi l'attenzione massima la deve avere chi fa dentro e fuori dalla casa, per cui il meno possibile, perché meno dentro e fuori fai, è più facile stare attenti, e distinguere chiaramente quello che succede fuori dalla porta di casa da quello che succede entrando. Entrando bisogna adottare dei comportamenti di protezione, per esempio? Per esempio, beh, innanzitutto quello di lavarsi bene le mani e disinfettarsi le mani, ma magari anche di disinfettare con quelle soluzioni di cui abbiamo già parlato, le cose che voi introducete in casa, che possono essere il telefono, le chiavi della macchina, le chiavi del telefono, le chiavi della macchina, quelle cose che voi avete portato con voi, ad esempio andando a fare la spesa, o per chi va a lavorare andando a lavorare, e che possono essere potenzialmente entrate in contatto con questa carica virale. Certo. Cosa usiamo per disinfettare, fra virgolette? Allora, sappiamo tutti che è difficile attualmente ritrovare dei gel disinfettanti, tipo la mucchina gel o altre soluzioni simili in commercio, però sappiamo anche che una soluzione al 70% di alcol è ottima per disinfettare qualsiasi tipo di superficie. Non usate la grappa o la vodka, ok? C'è di meglio. Sì, però ci sono anche delle possibili soluzioni da homemade, da fare in casa, che sono consigliate comunque dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e che sono possibili da consultare sul loro sito. Certo. Possiamo dividerle in due categorie, quelle che usano l'alcol e quelle che usano la candeggina. Quelle che usano l'alcol sostanzialmente sono dei preparati in cui c'è il 70-80% di alcol, una certa quota di acqua ossigenata, e poi della glicerina che è la cera, insomma è quella che rende il tutto cremoso, e quindi si fanno delle preparazioni un po' artigianali di quelle che alternativamente sono i gel disinfettanti che potete comprare in farmacia, ammesso che si riesca a trovarli, ma adesso si sta ricominciando a trovarli in giro. L'altro invece è il settore candeggina, ha senso per le superfici. Possiamo utilizzare per le superfici delle soluzioni diluite di candeggina, in cui usiamo 40 ml della nostra candeggina diluita in un litro di acqua. ovvero un bicchiere in 5 litri se dobbiamo far passare superfici ampie. Questo tipo di diluizione è una diluizione che non rovina gli oggetti, ovviamente da non spruzzare addosso alle persone, e che però è sufficiente per mantenere una buona igiene. Quindi il piano della cucina, il piano del tavolo, le cose dove è appoggiata le borsine tornando da casa, ok, una passata di acqua e candeggina diluite in queste proporzioni e avete risolto il vostro problema. Attenzione a proposito dello spruzzare in faccia, per carità, ma sono in grande aumento gli incidenti domestici. Chiaramente i bambini in questo periodo non si fanno male sulle altalene del parco perché non ci vanno, però si fanno male dentro casa. Occhio a dove tenete le sostanze tossiche o urticanti o pericolose. Ecco, e le soluzioni fatte in casa non vanno messe in bottiglie che normalmente utilizzate per ad esempio l'acqua o altre bevande. Una bellissima etichetta evidente fuori e utilizzate possibilmente dei contenitori dove erano già contenute delle soluzioni detergenti. Ricordiamoci di crearci delle abitudini perché altrimenti se tutto è lasciato al caso, il fatto che stiamo pensando a un'altra cosa ci fa dimenticare le cose fondamentali. Quindi l'abitudine nuova deve essere quella mettiamo piede in casa, laviamoci le mani, disinfettiamoci le mani, disinfettiamo le cose che sono venute con noi fuori. Certo, lasciamo le scarpe appena all'ingresso, addirittura fuori dalla porta, togliamo la giacca, disinfettiamo le mani, gli oggetti vengono depositati sul tavolo della cucina che poi viene disinfettato anche lui, il resto della casa è al riparo, i vostri bambini non corrono pericoli. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci, alla prossima.